Noi siamo cinque anni che stiamo in predissesto, stiamo in una situazione con cui abbiamo governato una città difficile come Napoli senza un euro, però abbiamo tagliato i costi della politica, abbiamo utilizzato al meglio i fondi europei che sono arrivati nella nostra città e anche i grandi eventi che ci sono stati a Napoli, li abbiamo fatti con grande capacità organizzativa, con grande attenzione e impegno dei napoletani, con pochissime risorse pubbliche e hanno contribuito enormemente al rilancio della nostra città. Io l'ho detto, rispetto e trovo legittima la posizione del sindaco Raggi, alla quale ovviamente auguro da sindaco di Napoli in predissesso buon lavoro e per quello che può fare Napoli noi non faremo mai mancare il nostro sostegno. Se non se la sento come mi pare di capire di fare le Olimpiadi, l'ho già detto e vedo che c'è un consenso crescente non solo tra i cittadini ma anche tra gli amministratori del Sud, cioè Napoli e il Mezzogiorno sono pronti a realizzare le Olimpiadi del 2028 dopo le università che si faranno nel 2019 con le mani pulite, sapendolo fare con organizzazione efficiente e soprattutto mi piace l'idea delle Olimpiadi della Magna Grecia, cioè non solo del Sud, del Sud, della Calabria, della Puglia, della Sicilia, del Mediterraneo, che attraverso lo sport vuole dimostrare che noi siamo popoli che crediamo veramente nei valori della fratellanza, della solidarietà, del dialogo e della pace. Quindi laddove Roma non se la sente, il che è legittimo o ha paura di essere travolta anche l'amministrazione Raggi dalla corruzione, noi invece siamo, come dire, pronti a farlo. Come sempre, l'abbiamo detto anche in questi giorni a proposito del ponte. Il Sud si sta riscattando nonostante il sistema che governa il Paese a livello nazionale e nonostante una disattenzione totale nei confronti di Napoli e del Sud. Anzi, nei confronti di Napoli, devo anche dire, nonostante le profonde discriminazioni. A proposito di Roma, voglio ricordare, Roma ha avuto tre leggi speciali, Milano altrettanto ha avuto una legge speciale, ha avuto l'Expo, Venezia ha avuto interventi speciali, Napoli non solo non ha avuto nessun intervento speciale che noi non chiediamo, gli hanno tolto il dovuto e noi quindi questo è il momento che ci andiamo a riprendere il maltolto.